Sento un cuore che batte fortissimo in questo momento, il suo nome è Belinda, il cognome me lo dirà dopo, so che ha vinto un festival e appena ho sentito questo, siccome so cosa vuol dire essere giovani, aver voglia di fare qualche cosa e quando c'è l'opportunità è giusto che il fatto avvenga, questa sera è avvenuto, Belinda dove sei? Ah è qui Buonasera a tutti, ciao Albano, tutto bene? Tutto bene, sei pronta? Sì sì, anch'io Vi dedichiamo un brano scritto da Bach e Beethoven, eh sì buonasera, da Bach questo ormai è partito Che ore sono per noi? 9.55, eh la miseria, mi ho detto a 90 anni si possono sopportare questi sacrifici, a 100 non lo so, vi canteremo l'Ave Maria di Bach Gounod Grazie a tutti 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 Grazie a tutti